Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si è verificato un incidente in uscita a Firenze Sud. Un chilometro di coda per un altro incidente al chilometro 277 tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti tra Calenzano, Sosto Fiorentino e Aglio. Sempre in A1 ma verso Roma, rallentamenti tra Badia e Aglio, code tra Aglio e Calenzano, Sosto Fiorentino, code attratti tra Firenze Scandici e Incisa Reggello. Rallentamenti tra Incisa Reggello e Valdichiana e code attratti tra Valdichiana e Chiusi Chianciano. Un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Incisa Reggello, sempre verso Roma. In A11 code tra Chiesino Zanese e Capannori verso Pisa. Veicolo in fiamme a Firenze Ovest in direzione Firenze. In Fibili, incidente tra la Strassigna e Cinestra Fiorentina verso Livorno. Ed è tutto, buon viaggio!